Velocemente Presidente, già avevamo prima anticipato l'emendamento nella discussione generale, di fatto si tratta di un riordino dal punto di vista anche temporale delle modalità con le quali potranno essere presentate, ma non sarà soltanto quella, comunque presentate e poi ascoltate le osservazioni o comunque i contributi da parte delle consulte. Si tratta ovviamente di un emendamento che è volto a garantire e a conservare questa architettura che è comunque degli strumenti che abbiamo portato avanti e che stiamo portando avanti e da questo punto di vista anche quella di prevedere questo termine e quindi collegarlo ci pareva sicuramente adeguato anche per cercare di garantire comunque un buon andamento dei vari leader deliberativi che potranno comunque svolgersi nel momento in cui il segretariato o comunque la segretaria generale potrà mandare e trasmettere queste proposte anche alle consulte. Grazie.